Grazie. Grazie. I colleghi, così nell'analisi che stiamo facendo qui, è chiaro, analisi che non si è potuta fare in commissione, fanno notare che comunque un limite temporale va a posto perché il rinnovo di anno in anno significa perpetuo, invece si vorrebbe ancorare il rinnovo annuo per carità di anno in anno ma legato alla fine della legislatura, al fine del periodo amministrativo. Quindi adesso cercheremo di formulare, se nessuno da niente manifesterà la volontà di recesso nella forma di seguito indicato e comunque... Io vado avanti con la lettura e poi ci ritorniamo nel momento in cui dobbiamo votare l'eventamento. Evitiamo i dialoghi tra di voi, cortesia, per favore. Articolo 10. Classe della Convenzione. La presente Convenzione è classificata in classe seconda ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni e ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale. Articolo 11. La presente Convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro. Articolo 12. Nome finali. Per quanto non previsto dalle precedenti Convenzioni, trovano applicazioni alle disposizioni legge del CNEL dei regolamenti e degli statuti dei singoli comuni in quanto compatibili. Articolo 11. La presente Convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali e dell'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata in copia autentica alla Prefettura di Palermo, ex sezione regionale dell'Agenzia della Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Per i conseguenziali provvedimenti, per opportuna informazione e copia della presente, viene inviata al Ministero dell'Interne, ex agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Letto e confermato e scritto Sindaco del Comune Fabio Accardi, Sindaco del Comune di Gangi, Dottor Francesco Paolo Migliazzo. Quindi io direi di partire dall'articolo 1. Aspettate un attimo che intanto chiamiamo l'appello, che così poi possiamo procedere con le votazioni degli emendamenti. Per quanto riguarda gli scrutatori ci sono? Perligno Strazzante e Comia Salve. Tampe Alessandro presente, Perri Clorinta presente, Cumia Salvatore presente, Ferrigno Fabrizio presente, Zuccalacalogero presente, Strazzante Stella presente, Patti Giovanni presente, Strazzante Michela presente, Flammà Danila presente, Di Dio Giovanni presente, Baglio Katia presente, Alessi Batu assente, Cumia Kevin presente, Vetriolo Giuseppe presente, Ferrigno Giuseppe assente, Barresi Giasmine presente. Allora sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 presenti e 3 assenti. Perfetto, grazie. Quindi, articolo 1, oggetto e fine. Diamo per letto approvato perché non c'erano emendamenti che io ricordo in questo articolo 1. Oggetto e fine. Non c'erano emendamenti quindi possiamo dare per letto. Chi è favorevole rimanca seduto, chi è contrario si alzi. Articolo 1, approvato all'unanimità. Articolo 2, comune, capo, convenzione. C'è l'elementamento del consigliere Cumia Kevin che parla di comune di Barra Franca, di sostituirlo con comune di Ganci. Perfetto, votiamo quindi l'emendamento del consigliere Cumia Kevin. Chi è favorevole rimanca seduto, chi è contrario si alzi. Buongiorno. Andiamo avanti. Articolo 3. Nomine e revoca del segretario comunale. Ci sono eventualmente a riguardo? No. Perfetto. Ascordi. Che cosa dobbiamo fare? L'articolo... Ah, ok. Ha ragione. Ha ragione. Quindi, votiamo l'articolo 2 nella sua interezza. Chi è favorevole rimanca seduto, chi è contrario si alzi. Io mi astengo di nuovo. Grazie. 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 Articolo 3. Nomine e revoca del segretario comunale. Nessuno. Perfetto. Chi è favorevole ha l'unanimità. Chi è favorevole rimanca seduto, chi è contrario si alzi. L'articolo 3 viene approvato all'unanimità. Articolo 4. Non c'era nessun emendamento? Quindi l'articolo 4 viene approvato nella sua inderezza. Chi è favorevole rimanca seduto, chi è contrario si alzi. L'articolo 4 viene approvato all'unanimità. Articolo 5. Sempre nella sua inderezza. Chi è favorevole rimanca seduto, chi è contrario si alzi. 5. Non c'era niente qua. No. Cioè nel 5 è tutto con entrambi? Sì, già era stato fatto. Quindi anche l'articolo 5 viene approvato all'unanimità. Articolo 6. Orario di lavoro. No, assolutamente. Quindi viene approvata la sua inderezza, chi è favorevole rimanca seduto, chi è contrario si alzi. Anche l'articolo 6 viene approvato all'unanimità. L'elementamento era nell'articolo 7. Perfetto. Due erano? Allora, io ricordo che era il comune di Barafranco a 25% e il comune di Ganci... 75% e il comune di Barafranco ad aumentare... 75% e il comune di Ganci. Ma io, il primo emendamento, quello del collega, che penso, essendo approvato... Che essendo che non è stato approvato... Che rimane come capofila, il comune di Barafranco, penso che questo emendamento non si potrebbe più fare. No, no, no... Ha capito? La domanda... Sì, però potrebbe... Certo, potrebbe... Comune di Ganci accertare la situazione anche... La consiglia della Flama mi ha chiesto di leggere di nuovo l'articolo... con eventuale emendamento. Il capo comune convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche aspettanti al segretario comunale e al recupero con cadenza rimestrale delle spese a carico dell'altro comune in convenzione. La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, compreso il rimborso delle spese di viaggio così determinata dall'articolo 37 dei segretari comunali provinciali, approvata in data 16.5.2001, e con le modifiche, sostituzioni o integrazioni da parte dei successivi contratti collettivi della categoria, graviterà in parti uguali su nessun comune. Comune di Barafranca 50%, Comune di Ganci 50%. Adesso il consigliere Cumia Kemin chiede che il Comune di Barafranca parteciperà col 25%, il Comune di Ganci col 75%. E' questo l'emendamento? Prego consiglierà Vice Sindaco Strazzanti. Io volevo solo evidenziare una cosa, che comunque il Comune di Barafranca è rimasto comune a capo convenzione, che quindi dovrà anticipare l'intera somma, secondo quanto è espresso dalla votazione del Consiglio Comunale. Solo questo. Per capire l'articolo come poi viene formulato. Grazie. Prego consigliere Cumia Kemin. Voglio rimanere alle mie illogicità stasera. Mi piace essere così bizzarro. Il Comune, il capo convenzione di Barafranca, per me deve pagare il 25% del corrispettivo al segretario, perché abbiamo anche una vice segretaria. Ci vogliamo assumere anche la responsabilità di liquidare l'intera somma, se passa l'emendamento, ovviamente, siccome l'esito mi sembra abbastanza scontato, che non passa l'emendamento, quindi io non lo ritiro. Punto. Bene, allora noi lo votiamo, questo emendamento. Quindi, l'emendamento che noi votiamo è l'articolo 7, è così emendato come è così come è emendato dal Consigliere Cumia Kemin, che è il Comune di Barafranca, 25%, Comune di Ganci, 75%. Questo, e infatti questo stiamo votando. No, stiamo votando proprio questo emendamento, 25% e 75%. Chi è favorevole rimanca seduto, chi è contrario si alzi. con il Consigliere Cumia. Come ho pensato, l'emendamento non passava. L'ho voluto mantenere per una questione molto simbolica. I cittadini non mangiano di segretari, non vivono di segretari. 10.000 euro possono servire per ulteriori servizi, ad esempio il magistrato stradale è pietoso a Barafranca. Avendo un vicesegretario, secondo me, per avere un giorno in più alla settimana il segretario spendere 15.000 euro mi sembra abbastanza eccessivo. Punto. Questo è il mio pensiero. Ora, la città che sta guardando fa le proprie determinazioni. Io ero su questa linea di pensiero. Punto. Grazie, consigliere Kevin. Prego, consigliere Ferrigno. L'intervento che fa il collega Cumia, Kevin, ha voluto dare una spiegazione al collega Cumia, Kevin, che per noi non è convincente e penso che anche la città, se capisce che si fa un rapporto 25-75%, può capire che questo rapporto si fa in base alla presenza. Io ricordo a me stesso che se la convenzione non si fa il segretario si paga al 100%. Ascavalco. Prego, consigliere Ferrigno. Ricordo sempre alla città, non a me, che il segretario Ascavalco non può essere protembole. Lo puoi nominare, ma sempre con un determinato limite. Non può essere sinedie, non può essere pressembole, altrimenti nessuno avrebbe in maniera associata la gestione di un segretario. comunque sia se la nome del segretario Ascavalco e la prestazione che viene erogata in via occasionale, quando il comune necessita di un segretario, e comunque abbiamo sempre il vice segretario, non voglio dimenticarlo, che percepisce la relativa indennità per lo svolgimento della funzione. e che comunque con questa convenzione al 50% dell'attività lavorativa su 5 giorni a settimana, il segretario dovrebbe lavorare due giorni e mezzo, così un giorno e 25. Quantificata in ora, non so quando sia, comunque può dedicare, concentrare il proprio lavoro all'interno di quelle ore lavorative per svolgere tutti i relativi atti che il comune necessita. Grazie consigliere Gumia. Quindi, il secondo emendamento dell'articolo 7 ce lo può presentare? Il comune di Berla Franca con il comune di Ganti nel caso di mancato pagamento. Ok, lo ritira perché non ha senso. Quindi, votiamo l'articolo 7 nella sua... No, sì, è su questa, sì. Quindi, mettiamo i voti dell'emendamento fatto in commissione nel caso in cui il comune di Ganti per due, tre mestieri consecutivi non versi il rimposto di cui al comma 1 e in rientraggioni la convenzione decade automaticamente mettiamo i voti questo emendamento fatto in commissione. Quindi possiamo votare l'articolo 7 come quello che stavo facendo? Sì, perfetto. Così come è emendato perché io l'ho letto così come è emendato quindi era già automatico no, no, non si preoccupi quindi mi dica prego Io non voterò questo emendamento perché comunque non ha senso dal momento che l'emendamento cardine proposto dal consigliere Kevin Cumia che comunque comportava un risparmio per l'ente con un costo solo del 25% è stato bocciato dalla maggioranza quindi per quanto mi riguarda non voterò questo emendamento perché comunque mancando l'emendamento cardine proposto dall'opposizione successivamente voterò contrario direttamente l'intera convenzione per quanto mi riguarda grazie Grazie a lei consigliere Cumia quindi mettiamo ai voti l'articolo 7 nella sua inderezza come votato in commissione chi è favorevole rimanga seduto chi è contrario si alzi articolo 8 forme di consultazione che io ricordino ci sono che io scusate 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 prego è chiaro che questo emendamento che io ho citato non l'ho fatto io così come ho avuto modo di dire in commissione io l'ho ricordato perché a me piace votare in maniera coerente sempre allo stesso modo questo emendamento io sposai allora e continuo a sposarlo anche in commissione l'ho sposato io e l'unanimità questo emendamento era fatto dalla collega Alice Crapanzano nella vecchia convenzione il collega Cumia allora lo approvò pure lo approvamo in tanti io sono Cumia Kevin nella commissione nella commissione lei non c'era collega Cumia Salvatore lei la commissione non c'era quindi per questo scusa sì siccome mi ha detto Cumia chi stavo specificando quindi per questo io mi sono preso tra virgolette la briga di ricordare questo emendamento non perché era un mio emendamento quindi io mi sono comportato correttamente e coerentemente con quando ho votato lo scorso anno grazie consigliere Ferigno prego consigliere Tambè sì presidente presente che era adesso all'attenzione al voto l'intero articolo 7 e non solo l'emendamento finale ricordo a tutta la città che io ho partecipato alla riunione della commissione a nome del momento 5 stelle in sostituzione della collega Barresi che era impossibilitata quel mattino nell'analizzare l'intera convenzione io ho contribuito anche ad alcuni emendamenti avendo contribuito ad alcuni emendamenti è chiaro che alcuni li ho votati e alcuni li ho approvati però mi ero riservato alla fine e dal verbale che purtroppo non è presente agli atti e questo non è una cosa bella dal verbale si evince che poi io comunque io comunque mi riservavo di riportare tutta la discussione avvenuta in molto serena quella discussione avvenuta in commissione di riportarla all'interno della forza politica che rappresentavo in quel momento e lì mi riservavo insieme alle mie due colleghe di decidere sull'intera convenzione semplice facevamo parte della commissione che anche in quell'occasione così come ha detto il collega Tambè noi abbiamo esplicitamente dichiarato che rinviavamo il punto in consiglio comunale proprio per dare all'intero consiglio comunale la possibilità di emendarlo come meglio credesse ed è questo che sta succedendo quindi non ho voluto puntualizzare il mio intervento chissà per quale motivo ma semplicemente per spiegare visto che manca un verbale quello che è successo tutto qui prego consigliera Barresi grazie presidente ad ulteriore chiarimento appunto il nostro voto contrario non è all'emendamento proposto e quindi proposto anche in commissione ma il voto contrario è all'intero articolo così come non è emendato perché appunto l'emendamento proposto dal collega Cumia non è stato votato favorevolmente per chiarire grazie grazie a lei prego consigliere Cumia una piccola precisazione in merito all'emendamento in realtà ho detto in premesse che a me piacciono le convenzioni perché alcuni servizi si abbassano i costi in maniera associata e a volte i piccoli comuni possono godere di servizi che se svolti e se pagati per intero dal comune siano molto onerosi studiando si impara negli anni inizio a acquisire un po' di esperienza anche a livello amministrativo noto come secondo me oggi valuto la figura dell'apporto del segretario basterebbe in questa situazione di sesso finanziario anche per il 25% questo è il semplice motivo ricordo che all'epoca anzi provai la convenzione come era stato proposto perché era da anni che il comune nominava da scavalco un segretario dare stabilità era giusto ma anche così si garantiva un minimo e una stabilità ripeto e dico abbiamo un vice segretario che nel caso di urgenza in qualsiasi momento un'aggiunta assieme municipale che si debba convocare dalle 13 alle 14 per non dire dei 4 decengu si possa fare benissimo con il vice segretario se non errore grazie consigliere Comia se non ci sono altri interventi io direi di passare all'articolo successivo articolo 8 forme e consultazione mi ricordo che io ricordo che non c'era nessun emendamento in questo articolo quindi lo votiamo alla sua interezza chi è favorevole rimanca seduto chi è contrario si alzi l'articolo passa all'unanimità dei presenti interezza passiamo all'articolo 9 durata e causa di sceglimento c'era qualche emendamento nell'articolo 9 quindi lo approviamo con la sua intere c'era infatti lo ricordavo che nell'articolo 9 c'era l'emendamento dovono proporlo capo verso quindi al fine del primo comma da aggiungere quindi subito dopo le parole recesso nella forma di seguito indicata da aggiungere e comunque con un limite legato alla fine del periodo amministrativo e comunque con un limite legato alla fine del periodo amministrativo o alla durata del periodo amministrativo alla durata del periodo amministrativo secondo me quindi votiamo l'emendamento proposto dal consigliere Tampè chi è favorevole rimanga seduto chi è contrario si alzi l'emendamento non viene approvato e quindi e quindi di conseguenza si vota l'articolo 9 nella sua interezza chi è favorevole rimanga seduto chi è contrario si alzi sono passiamo all'articolo numero 10 classe della convenzione che ricordi qui non c'è nessun emendamento quindi lo votiamo nella sua interezza chi è favorevole rimanga seduto e chi è contrario si alzi l'articolo 10 passa all'unanimità passiamo all'articolo 11 registrazione chi è favorevole rimanga seduto e chi è contrario si alzi l'articolo 11 passa all'unanimità dei presenti articolo 12 nome finali norme è sbagliato perché come ah infatti lo so norme finali norme finali quindi lo proponiamo nella propria interezza chi è favorevole vabbè ovviamente da chi è favorevole rimanga seduto chi è contrario si alzi l'abbrezza di vedere votato un mio ammendamento dalla maggioranza l'articolo 12 passa all'unanimità dei presenti quindi adesso poniamo i voti invece tutto il regolamento nella sua interezza chi è favorevole rimanga seduto e chi è contrario si alzi ci sono alcuni interventi la convenzione viene approvata con 7 voti favorevoli 5 con rari e 1 astenuto sì c'era prima il consigliere Cumià prego consigliere Cumià ma assolutamente no evitiamo dialoghi tra di voi il collega vetriolo mi fa ridere no vabbè comunque sono sempre contento che è passata la convenzione giustamente c'è sempre un risparmio rispetto a caricarsi un segretario per indero la mia proposta rivolta in maniera molto informale all'amministrazione è di revocare la vice segretaria dato che abbiamo un non è sulla persona ovviamente sono contento che è passata la convenzione è tutto un altro modo per risparmiare è levare l'indennità della vice segretaria così livelliamo sempre risparmiamo dato che il comune è indissesso questa è una proposta che viene dal mio gruppo dal mio partito non è una mia imposizione personale anzi è un invito che rivolgo al sindaco e all'amministrazione grazie consigliere consigliere prego consigliere Verriolo signor presidente niente io volevo fare una proposta di prelievo del regolamento triolo stiamo parlando ancora stiamo parlando di eseguire della votazione l'immediata esecutività dottoressa è necessaria per le convenzioni oppure no no va bene allora sono prenotato prima di passare perfetto prego consigliere no ci sono altri che devono intervenire più che altro per quello semplicemente la convenzione è indubbiamente uno strumento importante è prevista dalla normativa ed è utilizzata ampiamente da tanti comuni soprattutto dai più piccoli e da quelli che sono in difficoltà proprio per permettere quelle economie di scala e quei risparmi importanti per gli enti in quanto gli enti utilizziamo una risorsa primaria che sono le somme che derivano fondamentalmente dalle tasse dei cittadini questa convenzione noi del mondo 5 stelle nella sua interessa l'abbiamo bocciata semplicemente perché ravvisavamo un punto importante nella possibilità di tradurre ulteriormente i costi e questa possibilità l'avevamo individuata nell'emendamento proposto dal collega Kevin Cumia ecco perché noi abbiamo votato ogni volta a favore degli emendamenti proposti che andavano in linea con quella linea con quel percorso bocciando eventualmente invece tutte le volte gli articoli tutte le volte che invece andavano contro quel tipo di proposta effettuata alla fine siccome l'emendamento non è stato assolutamente accettato è stato respinto e ogni tipo di riflesso di quell'emendamento sull'articolato della convenzione alla fine abbiamo bocciato tutta l'intera convenzione questa è la dichiarazione poi sull'esito definitivo nessuna valutazione è chiaro viene data sulle persone interessate e coinvolte nella nella fattispecie e in tutti i casi sulla persona della segretaria grazie grazie a lei consigliere ci sono altri interventi sull'esito della votazione no quindi ah prego la convenzione che comunque a mio modo di vedere fa risparmiare il comune se non altro perché c'è un segretario di di ruolo volevo fare una domanda perché perdonate improbabilmente mi sbaglio ma la vecchia convenzione avevamo il 60 e il 40 giusto quindi in modo di un piccolo risparmio per quello che si è potuto credo che comunque si è raggiunto detto questo io non posso fare altro che essere diciamo ritenere diciamo soddisfatto all'esito della votazione perché comunque anche con le rispettive differenze almeno si è arrivata ad approvare una convenzione che sicuramente ci garantirà comunque la presenza di un segretario e devo dire anche per i toni comunque dopo un consiglio abbastanza aspro anche se c'erano delle differenze comunque si è arrivato all'approvazione dell'atto grazie grazie a lei consigliere Ferrigno se non ci sono altri interventi sull'esito della votazione io direi ah ecco c'è il signor sindaco mi scusi signor sindaco ma altronde come diceva giustamente il consigliere Ferrigno rispetto alla convenzione precedente questo comune ha un ulteriore risparmio perché la precedente convenzione era 60 e 40 oggi siamo al 50 e 50 e quando mi fa esplicio quando il consigliere Cumiè propone una riduzione ulteriore al 25% in realtà un segretario comunale non serve in un ente soltanto per fare le giunte o per i consigli comunali ha un ruolo importante anche per quanto riguarda funziona per quanto riguarda la gestione per quanto riguarda la gestione dei vari dei vari settori e nel coordinare i capi settori io ricordo i primi periodi che ha vissuto questo ente quando il comune non aveva un segretario e si viveva in maniera quasi disperata con segretari che arrivavano a scavalco da un comune all'altro tante volte anche per fare un consiglio comunale c'erano grandi difficoltà da quando il comune ha avuto il segretario titolare tutte queste vicissitudini le ha superate quindi ritengo che abbia fatto bene il consiglio comunale a votare in questo modo quindi ad approvare la convenzione che ci dà l'opportunità di avere un segretario titolare ma ci porta anche a un risparmio che in questo ente e in questo momento particolare dal punto di vista finanziario importante grazie grazie a lei signor sindaco prega consigliere comia fatto personale purtroppo devo diventare anche esperto a intervenire su fatto personale è in dubbio quello che dice il sindaco che si risparmia però visto che il segretario sembra lo stesso già sa in sostanza come funziona il settore come funziona l'intero sistema burocratico e quindi ha avuto anche già un po' di tempo per mettere in regola le carte era un modo per risparmiare quest'annetto o via dicendo qualcosina piccolezze possibilmente ho torto possibilmente ho dato un input sul fatto che avendo una convenzione al 50% oggi e quindi un segretario per due giorni e mezzo alla settimana a Barrafranga può riformulare quindi una pianta organica ad esempio supplire la mancanza del capo del secondo settore togliere la vice segretaria sono modi per abbassare sempre la spesa sul personale e che il comune purtroppo deve pagare grazie 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 a lei per fatto personale perfetto grazie a lei consigliere Cumia se non ci sono altri interventi io direi di dare la parola al consigliere Verriolo che deve proporci qualcosa grazie grazie signor presidente dopo aver ascoltato in silenzio il collega Kevin Cumia che è diventato parsimonioso vorrei proporre un prelievo no per fatto personale no era una battuta volevo proporre il prelievo del punto numero 7 che è il regolamento sulla deco comunale sovracomunale un regolamento che le imprese agricole e commerciali aspettano da tantissimo tempo e che finalmente è potuto approdare in consiglio comunale dopo il lavoro svolto in maniera certosina dagli ultimi due assessori all'agricoltura nello specifico l'assessore Bevilacqua e l'assessore Strazzanti attuale vice sindaco che avevano iniziato il percorso e completato l'attuale vice sindaco quindi propongo il prelievo perché ritengo un regolamento di fondamentale importanza strategica per lo sviluppo del settore agricolo grazie grazie a lei consigliere Vetriolo prego consigliere Tampè le devo dire caro collega Vetriolo che mi ha preceduto perché anche io volevo fare quel tipo di prelievo però a condizione che poi si completi tutto il consiglio questa era la condizione che poi si completi tutto il consiglio non è detto non è vero non menta sapendo di mentire questa sera le rendo pan per focaccia prego quindi mettiamo i voti la proposta del consigliere Vetriolo che è quella di prelevare il settimo punto all'ordine del giorno chiamiamo l'appello dottoressa Flammà di Dio Baglio Alessi Cumia Kevin Vetriolo Ferrigno Giuseppe e Barresi quindi assenti Zuccalà di Dio Baglio Alessi Batù e Ferrigno Giuseppe Perfetto mettiamo i voti la proposta di prelievo chi è favolevole rimanga seduto e chi è contrario si alzi mi sembra che la proposta passi all'unanimità dei presenti Allora l'assessore all'agricoltura vista la deliberazione dell'aggiunta comunale numero 59 del 06 9 2018 con la quale è stata approvata la proposta della sottoscrittura Assessore di Cultura dottoressa Stella Strazzanti di revoca approvazione dei regolamenti in oggetto meglio definiti ritenuto di dover dotare il comune di un nuovo strumento volta alla classificazione e valorizzazione dei prodotti agroalimentali locali secondo parametri più competitivi che le esigenze di mercato odierne richiedono atteso che la deliberazione di giunta comunale sopra citata alla presente allegata costituisce contestualmente proposta per il consiglio comunale parte integrante e sostanziale della presente proposta propone all'onorevole consiglio comunale l'adozione di un atto deliberativo con il quale revoca il regolamento comunale per la valorizzazione dell'attività agroalimentari tradizionali locali istituzione della denominazione comunale di origine deco approvato con delibera del consiglio comunale numero 108 del 5 10 2011 approva il nuovo regolamento comunale per la valorizzazione dell'attività agroalimentali prego vorrei proporre per mozione d'ordine se i colleghi sono d'accordo di andare ad intervenire su quegli articoli se dovessero esserci degli emendamenti degli emendamenti scusate il lapsus da fare così snelliamo il lavoro e poi passiamo subito alle interrogazioni volevo chiedere solo solo questo è circa 10 pagine il regolamento quindi per snellire il lavoro prego consigliere tampè non ho nulla in contrario per carità però il collega avettiolo a toppa premura stasera a toppa premura il collega avettiolo no no non vogliamo esitarli per favore ancora la presidente non era passata alla lettura dell'articolato stava dicendo la proposta di deliberazione allora penso che comunque indubbiamente la città sarebbe il caso che si desse lettura anche se poi alla fine magari è difficile seguire tutta la lettura però visto che è lungo sono tutte già coinvolte lo conoscono tutto e quindi per me va bene anche la data per letto tutto l'articolo anche se forse sarebbe bello quando meno leggere il primo articolo presidente perché almeno la cornice la cornice la disegniamo e poi passiamo a eventuali emendamenti noi come forza politica ne abbiamo qualcuno prego consigliere Vergeolo il regolamento è stato condiviso e stra condiviso proprio rimarco il concetto con le categorie che sono state puntualmente invitate ad ogni incontro addirittura abbiamo anche esteso questo regolamento perché cominciai io assieme all'assessore Bevilac il percorso poi l'ha completato l'assessore Strazzanti l'abbiamo condiviso anche con i comuni della deco sovracomunale che individuiamo nel bacino idrografico che va dal torrente Bremi al torrente Tardare questo dovrebbe essere uno degli emendamenti che deve fare il collega il collega Tambe del Movimento 5 Stelle quindi come l'accetto se lo vedo Tambe no siccome qualcuno sbagliava deco per questo ho fatto infatti vabbè quindi possiamo leggere il primo articolo e poi passare gli eventuali articoli da emendare penso che prima completo la proposta di legge della proposta visto che sono state interrotta quindi rilego il secondo punto approva il nuovo regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali istituiti dalla DECO denominazione comunale di origine istituzione della DECO sovracomunale c'è il verbale della prima commissione ritenete che sia utile che io lo leggo oppure la prima commissione consigliare verbale numero 11 il giorno 29 10 2018 alle ore 8 e 30 si è riunita la prima commissione consigliare per trattare i seguenti ordini del giorno riconoscimento estremi necessità d'ugenda della seduta il regolamento comunale per la valorizzazione delle attività produttive agroalimentari tradizionali locali istituzione della denominazione comunale di origine DECO approvazione con delibera consiglio costituzione comunale 108 del 5 10 2011 approvazione del regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari locali istituzioni della DECO denominazione comunale di origine istituzione della DECO sovracomunale si aprono i lavori delle 8.30 sono presenti Stella Stazzanti e Patti Giovanni per mangiare il numero legale vabbè vengono rinviate alle 9.30 alle 9.30 sono presenti il consigliere També Alessandro che si riusisce il consigliere Giasmini Barres il consigliere Giovanni Patti il vice sindaco Stella Stazzanti che si riusisce il presidente della commissione il consigliere Ferrigno Giuseppe in qualità di capogruppo si aprono i lavori e si passa i voti per riconoscere gli sistemi in urgenza sono favorevoli il consigliere Patti e Stazzanti il consigliere També Alessandro il consigliere També spiega le motivazioni del suo parere sfavorevole e precisa prima dell'approvazione del regolamento in questione che vorrebbe leggere e consultarsi con i componenti del suo partito dopo ambia discussione il consigliere També Alessandro alle ore 10 lascia i lavori della commissione verificata la mancanza del numero legale si chiudono i lavori alle ore 10.10 per una questione iniziamo articolo 1 del regolamento il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico culturale e turistico nonché uno strumento di promozione dell'immagine del comune di Barafranca il comune di Barafranca che individua tra i propri fini istituzionali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e di quanto disposto dei sensi dell'articolo 3 comma 4 lettera e dello statuto comunale l'assunzione di iniziative volte a sostenere e a valorizzare le risorse economiche e le capacità professionali nei settori tradizionali e in quelli nuovi favorendo lo sviluppo e la cooperazione nonché la tutela del patrimonio di tradizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari gastronomiche e artigianali finalizzate alla produzione e alla preparazione dei prodotti e delle specialità locali che per la loro tipicità sono motivo di particolare interesse pubblico e come tali meritevoli di valorizzazione 3 in riferimento all'articolo 13 del decreto legislativo 267 2000 in IVI richiamato il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio il comune di Barafranga intenta curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali alimentari e di cultura materiale riconoscendo ad esse anche la capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con rilevanti ricadute su tutta la comunità barrese 4 in attuazione dei principi statutarie nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo il comune di Barafranga attraverso le produzioni tipiche locali intende anche valorizzare il ruolo e la professionalità delle imprese agricole artigianali e commerciali del territorio comunale e sovracomunale attraverso il presente regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione promozione e tutela dell'adeco denominazione comunale dell'adeco sovracomunale a questo punto ci sono alcuni errori piccoli errori è chiaro che non possono diventare non possiamo lasciarli così proprio perché sappiamo come come vengono elaborate gli articoli vengono elaborati gli articoli di regolamenti di convenzioni e conosciamo e conosciamo qualcosa del diritto ci sono delle piccole cose da correggere e allora secondo comma presidente nel secondo comma al terzo rigo del secondo comma quindi nel secondo rigo si dice è scritto di quanto disposta i sensi dell'articolo 3 comma 4 lettera e ma ci vuole però la parentesi dopo la e se si presentano degli emendamenti dico corre il parere del responsabile che non è presente in aula io pensavo che gli emendamenti fossero corredati dai pareri però possiamo fare degli emendamenti li presentiamo comunque li diamo già per consolidati per evitare poi di allungare i tempi solo per questo motivo si condivido condivido si si io ho appena letto il verbale della commissione l'ho letto proprio poca cioè proprio prima di leggere l'articolo 1 ho letto il verbale proprio per togliere ogni tipo di sì un attimino sì presente se posso allora è chiaro che allora io stavo presentando già alcuni emendamenti da fare giustamente la segretaria fa notare giustamente la segretaria fa notare una cosa che comunque c'eramo detti già in questo tavolo dell'opposizione fa notare che gli emendamenti allora la segretaria faceva notare una cosa che già era emerso il collega Ferrigno il collega Salvatore Cumia Kevin Cumia condividevano con noi tutti qui nel tavolo dell'opposizione una difficoltà se proponiamo degli emendamenti è chiaro che ci vogliono i pareri quindi io mi sono permesso di dire proponiamolo però gli emendamenti restano acquisiti in modo da non ripetere non rifare di nuovo un ulteriore tavolo sì sì nel senso che poi rimangono consolidati e acquisiamo i pareri consigliere Verriolo prima ho chiesto la parola al vice sindaco quindi lasciamo completare lui e poi gli emendamenti allora li propongo appena troviamo una linea comune grazie grazie a lei prego vice sindaco grazie presidente io volevo semplicemente spiegare al consigliere Ferrigno Giuseppe cosa è successo alla commissione prima io mi trovavo a sostituire la presidente Danila Frammà che era impossibilitata ed è stata dico alla gente una commissione abbastanza accesa quando ci siamo trovati a votare l'urgenza che la collega Flammà ha inserito come primo punto all'ordine del giorno perché il regolamento era inserito negli ordini del consiglio comunale il consigliere Tambè non riteneva urgente il punto vota contrario comunque il punto passa con due voti favorevoli il mio e quello del consigliere Patti allora il consigliere Tambè in maniera molto democratica decide di abbandonare l'aula non dandoci la possibilità neanche di leggere il regolamento e quindi di poter correggere anche quegli errori che possono capitare che non è che io sono la scienza in terra quindi volevo solo chiarire alla città quanto è successo in prima commissione grazie grazie a lei vice sindaco per fatto personale consigliere Tambè prego io volevo come dire andare al di là di ciò che è successo in commissione perché mi pare stasera forse poi dopo l'esploit iniziale dopo quello che era successo abbiamo fatto una sospensione di seduta del consiglio comunale e ci siamo ripromessi tutti di dare un tono più alto ed elevato a questo consiglio comunale vedo che non è così sì però io non come dire non desisto dall'idea di ritornare invece sul merito dico semplicemente una cosa capisco che il presidente della prima commissione si veda quasi costretto a inserire in sede nel momento in cui convoca la prima commissione proprio perché lo stesso punto che doveva essere trattato in commissione questo del regolamento d'eco poi era argomento quindi posto all'ordine del giorno del consiglio comunale del pomeriggio capisco che il presidente della commissione la collega Flamma si veda quasi quasi costretta a inserire come primo punto riconoscimento dei requisiti di necessità e urgenza però io perché l'ho bocciato pur avendo detto e la presidenta ha letto il verbale pur avendo detto che indubbiamente è un punto importante però sentivo l'esigenza di condividerlo con le mie due colleghe con la forza politica di cui faccio parte e quindi non ero non ero d'accordo col votare le esigenze di necessità e di urgenza perché non perché non sia importante il punto lo è lo è lo è altro che non lo sia importante questo punto però mi dispiace che si arrivi sempre alla fine che si arrivi sempre all'ultimo minuto noi non possiamo essere quelli dell'ultimo minuto voglio utilizzare un'espressione molto cara al collega Ferrigno noi siamo quelli del last minute non può essere così perché agire sempre con il fiato sul collo è un'espressione che si è usata stasera non è molto bello noi poi alla fine ci siamo avvalsi anche del grande aiuto che è venuto da uno degli attivisti importanti del nostro movimento aiuto prezioso perché questo nostro attivista ha collaborato parecchio alla stesura del regolamento altrimenti avremmo avuto qualche difficoltà in più stasera io non sarei qui con gli emendamenti pronti avrei chiesto all'intero consiglio invece di rinviare ho gli emendamenti pronti perché uno dei nostri attivisti molto attivo in questo settore ha partecipato alla stesura alle discussioni all'elaborazione al dialogo serrato che c'è stato e ha dato un preziosissimo contributo a noi consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle anche nella redazione degli emendamenti altrimenti stasera io mi sarei alzato e avrei detto ho bisogno di tempo abbiamo bisogno di tempo questo è quello che avviene e avviene nella democrazia non sarei andato contro la democrazia perché pur essendo un argomento molto importante la città lo aspetta le categorie lo aspettano le categorie economiche di questa nostra martoriata città lo aspettano non c'era un'impellenza di legge per dire il 29 ottobre dovete approvare il regolamento altrimenti non potete approvarlo mai più questo era il principio che volevo sottolineare io quando ho bocciato i criteri di necessità d'urgenza ripeto ancora per evitare poi una reazione che penso non ci sarà riconosco e capisco perché la collega presidente della prima commissione lo abbia fatto lo capisco e la giustifico anzi penso di aver chiarito il tutto cercando di volare alto così come mi è stato chiesto e così come ho cercato di fare in tutto il consiglio per evitare di rientrare di nuovo nelle polemiche non mi piacciono non piacciono neanche a me come tutti voi sapete lo sanno anche i nostri concittadini a me piace entrare nel merito delle cose e giammai invece nelle questioni pregiudiziali aspetto che il consiglio si determini su cosa fare prima di proporre gli emendamenti consiglio comunale penso che si debba utilizzare lo stesso metro che si è utilizzato per il punto che abbiamo approvato poc'anzi che è quello della convenzione del segretario in quel punto sono stati fatti parecchi emendamenti tra l'altro non è stato chiesto il parere a nessun responsabile del settore con una differenza che quella convenzione prevede un esborso di somme per il nostro ente mentre il regolamento dell'Addeco prevede solo dei benefici per le nostre imprese quindi io non penso che ad ogni emendamento serva un parere di regolarità tecnica perché tra l'altro si tratta di emendamenti di di entità diciamo tra virgolette irrisorie non me ne vogliate se uso questa questa espressione perché da quello che è emerso non vanno a modificare in maniera strutturale il regolamento così come è stato approvato dalla 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 giunta quindi io faccio un un invito e magari chiedo anche al notaio del del consiglio alla dottoressa giunta se è possibile e penso che si possa fare perché in passato si è sempre fatto quello di approvare un regolamento facendo un emendamento in aula senza il parere di diciamo regolarità tecnica da parte del settore perché sostanzialmente non penso che serva per il regolamento io su questo voglio porre la domanda al segretario comunale se è possibile elementarlo e quindi votarlo nella sua interezza e quindi dare alla luce questo regolamento sicuramente quello che si è verificato in commissione non fa onore a nessuno la commissione avrebbe potuto trattare benissimo il punto si è verificato spero che non succeda più il vice sindaco ha fatto bene ad evidenziare lo spiacevole evento che si è verificato serva da monito per le prossime sedute grazie grazie collega tutto quello che avviene in quest'aula e nelle sedi delle commissioni quindi dove siedono i consiglieri comunali è chiaro che serve sempre per arricchire di esperienza ognuno di noi tutto deve servire da monito tutto ogni cosa quindi chi è stato presente in commissione sa di cosa parlo non voglio ritornarci personalmente non voglio ritornarci non approfitto non approfitto dalla posizione che sto riversando in questo momento per importe alcunché ma l'avrei detto le stesse identiche parole l'avrei detto stando seduto nel mio posto di consigliere segretaria è stato posto di nuovo un quesito da parte del collega Verriolo il quale ritiene che trattandosi di emendamenti perché in qualche modo anche il collega è venuto a conoscenza dell'entità e della tipologia degli emendamenti che non incidono sul corpus del regolamento stesso ma vanno semplicemente a definire ulteriori aspetti quindi che non incidono radicalmente sullo stesso regolamento lui il collega proponeva eventualmente di poter passare ugualmente all'analisi all'introduzione di questi regolamenti di questi emendamenti e poi la votazione del regolamento stesso allora se si tratta di mere correzioni è un conto dico se si tratta di emendamenti vanno richiesti i pareri perché i pareri sono obbligatori anche se non vincolanti anche sugli emendamenti e sulle modifiche che si fanno in consiglio comunale se posso allora ci sono sicuramente degli emendamenti che vanno a correggere semplici sbavature o refusi di stampa ed è necessario farlo perché il regolamento deve uscire pulito da quest'aula ma ci sono anche emendamenti che riguardano aggiunte aggiunte di periodi o anche correzioni di frasi e di parole solo questo quindi è chiaro che quella tipologia di emendamento dovrà poter avere anche i pareri se i colleghi sono d'accordo vi sottopongo all'attenzione una mia proposta se i colleghi tutti sono d'accordo possiamo eventualmente proporre gli emendamenti analizzarli inserirli e lasciare il regolamento così in modo da recepire i pareri e quindi andare avanti con i lavori in pratica portarci avanti con i lavori sul regolamento in modo da evitare poi di dover riconvocare un'altra commissione dover riconvocare certamente poi il consiglio dovrà essere convocato di nuovo per dare un parere definitivo e approvarlo definitivamente penso che dice la segretaria il collega Vettiolo il collega Vettiolo ha chiesto la parola e ne ha facoltà sì allora tecnicamente quello che dice lei sarebbe in parte giusto però poi se il regolamento stasera non potrà essere approvato il presidente della commissione avrà comunque l'obbligo al prossimo ordine del giorno di riproporre la convocazione della commissione tanto vale lo voleva dire la collega Flammà che è il presidente della prima commissione io l'ho anticipato per rispondere a lei tanto vale che il regolamento interamente lo portiamo in commissione si emenda e si riporta in consiglio emenda scusate ogni volta mi confondo sta cosa si emenda e si porta in consiglio comunale così come è volontà di tutte le forze politiche e delle categorie perché tra l'altro gli emendamenti sono due o tre se non ricordo male sono uno sul bacino idrografico che riconosce l'addego sovracomunale uno che ieri sera mi ha sottoposto l'amico Centonze per il comune farsi promotore del riconoscimento della DOP dell'IGP e dell'IGC e delle altre sigle anche se c'è la legislazione europea che dice che devono essere i privati o le associazioni a farsi promotori del riconoscimento del marchio di qualità però questo se lo vogliamo inserire ci discutiamo sopra e non è assolutamente ostativo per il nostro comune non modifica il corpo della delibera quindi poi se c'è qualche altro emendamento che è nato strada facendo con piacere l'importante è che arriviamo con immediatezza all'approvazione del regolamento allora io grazie collega grazie collega no allora grazie collega allora se certamente certamente allora siccome è componente del consiglio comunale siamo tutti qua io concordo siccome ero uno dei colleghi che è uno dei consiglieri che doveva proporre degli emendamenti concordo abbiamo anche qui presente la presidente della prima commissione quindi prenderà atto che gli emendamenti li proporremo direttamente alla commissione in modo da fare un lavoro organico una convocazione da fare quanto prima possibile in modo da dare la possibilità di esitare in maniera di accelerare questo regolamento con tutti gli emendamenti proposti fra gli altri ci sono anche delle correzioni da fare allora siccome io leggevo che c'è un articolo nell'articolato c'è un articolo 4 bis è un regolamento nuovo evitiamo i bis perché eventualmente si integrano solo se ci fossero modifiche dopo la prima stesura dopo la prima approvazione quindi correggeremo anche questi errori e ce ne sono di errori e quindi lo facciamo in prima commissione la collega la collega che la collega Flammà che è presente che preside la prima commissione e quindi è chiaro che avrà questo onere di riconvocare la commissione col punto all'ordine del giorno se voi siete d'accordo io posso sì sì c'è un nostro concittadino che abbiamo anche citato io personalmente l'ho citato perché uno degli attivisti del mondo 5 stelle che ha dato un grande dovuto dentro il movimento ma anche fuori il movimento per la stesura di questo regolamento per me è possibile collega per me è possibile caro Salvatore Centonze io innanzitutto buonasera ringrazio il presidente per avermi dato la parola perché volevo sottolineare ed evidenziare che l'eventamento che verrebbe proposto in aggiunta al nuovo regolamento è già presente nel vecchio regolamento che verrebbe abrogato per promuovere il nuovo è già avuto un parere di conformità tecnica nella delibera del 5 2010 2011 quindi io ritengo che sia opportuno far analizzare il testo della delibera alla segretaria che ne può prendere atto quindi l'articolo che verrebbe inserito riguardante la DOP IGP e altre caratterizzazioni di tipo riconoscimentale potrebbero essere inserite perché sostanzialmente il regolamento che verrebbe approvato stasera riguarderebbe l'inserimento di tre emendamenti due di tipo marginale che riguarderebbero soltanto l'inserimento del bacino idrografico Tardara Nord lo stesso emendamento che è l'articolo 9 del vecchio regolamento denominazione comunale del comune di Barra Franca che peraltro poi nella forma è conforme ai principi normativi e giuridici dell'attuale regolamentazione comunitaria io ritengo che un articolo che già ha avuto un barere tecnico positivo che è lo stesso che si ripropone nel nuovo regolamento a mio avviso e conoscendo la materia non ha necessariamente bisogno che passi in commissione tecnica per avere un'ulteriore parere a sostegno di quello che è il principio del regolamento stesso ringrazio ringrazio salvatore centonza però c'è questo è un problema di legittimità di quest'atto di stasera garanzia del consiglio io ringrazio ringrazio salvatore centonza ringrazio i colleghi che stanno contribuendo grazie ancora ringrazio i colleghi che stanno contribuendo alla discussione in merito a questo punto c'è collega sì collega Kevin Cumia mia facoltà grazie no era sempre in merito questo regolamento credo che sia possibile invece iniziare a leggere il regolamento votiamo gli emendamenti se passano gli emendamenti dato che questo regolamento ha già i pareri di regolità tecnica e ci dotiamo eventualmente di regolamento se ci sono i numeri altrimenti si votano gli emendamenti gli articoli votati e poi gli uffici mettono in parere lo facciamo qui in pubblica sisa la luce e la trasparenza di tutti e poi rivotiamo nuovamente al prossimo consiglio il regolamento senza fare ulteriori regolamenti credo che gli assenti non hanno interessi particolari sul regolamento del genere allora sì grazie al collega che venco mia collega vettiolo abbassando la testa mi è stato già la parola no facendo per il microfono ho spiegato l'arrazio secondo la quale secondo me è necessario rimandare il regolamento in commissione perché alla convocazione del prossimo consiglio comunale il regolamento nostro dice che il parere della commissione è obbligatorio ma non vingolante quindi il presidente della commissione comunque dovrà convocare la commissione per vagliare il regolamento all'ordine del giorno quindi tanto vale che il disco tra l'altro lo possiamo fare col magnetofono come voglia anche qui lo possiamo fare perché non c'è nulla da nascondere perché le modifiche sono detto l'ha detto anche Cendonza lo sappiamo tutti quanti sono di poco rilievo a parte l'articolo che si dovrebbe aggiungere quindi per accelerare il consiglio comunale di stasera lo mandiamo in commissione lo emenda la commissione lo emenda e emenda e poi ritorna in consiglio comunale con tutti i pareri nella speranza che non ci siano altre modifiche da fare solo questo era l'arraccio poi se lo vogliamo leggere stiamo grazie collega sì collega Frammà mia facoltà buonasera a tutti faccio mio il discorso del collega vetriolo e propongo di rinviare il regolamento in commissione visto che comunque il ruolo della commissione è proprio quello di snellire i lavori dell'aula in modo tale da sviscerare bene questo regolamento da studiarlo da inventarlo da redarlo da tutti i pareri che servono e invito i colleghi della commissione della prima commissione a essere presenti quando si tratterà questo regolamento in modo tale da proporre tutti gli emendamenti e da togliersi da ogni dubbio grazie grazie alla collega Frammà collega che vengo mia sì un piccolo accendo sulla questione stasera voglio dissentire a tutto in che senso secondo me il parere della commissione non è obbligatorio le commissioni hanno funzioni consultive snelliscono i lavori del consiglio comunale e lì non ci piove sono dell'orientamento che secondo me anche sulle parole la segretaria potrebbe dare i pareri questo è il mio orientamento giuridico sotto altro profilo oggi votare singolo articolo per articolo secondo me quindi dalla luce della mia interpretazione eviterebbe quindi ulteriori lungaggini sulla questione però se l'orientamento è questo che il consiglio faccia le proprie determinazioni prego consigliera flammà anche presenteremo gli emendamenti stasera il tempo che questi emendamenti potranno arrivare agli uffici e corredarli di parere perché poi in commissione non c'è sicuramente il tecnico il tecnico non può mettere i pareri alle parole e quindi è soltanto per snellire la procedura tutto qui se poi ci dobbiamo avvitare sempre su questa benedetta burocrazia io sfido un cittadino barrese a imbugnare la delibera sul deco e a portarla dinanzi al tar perché dice che non è corredata di pareri dice perché non è stata votata in commissione voglio vedere chi è che entro 60 giorni porta questo regolamento in commissione dinanzi al tar prego consigliere la flamma il collega stasera oltre che essere bizzarro eppure spiritoso è da una serata che fa sorridere tutti volevo ricordare che il parere della commissione è obbligatorio ad ogni modo deve essere espresso e ricordo anche che se questa commissione si fosse fatta e magari tutti i componenti fossero stati presenti e me ne scuso perché è impossibilitata ma mi sono fatta sostituire gli emendamenti sarebbero già stati fatti sarebbero già corredati di parere e oggi magari avremmo potuto pure votare grazie grazie a lei consigliere ma prego consigliere tambè allora io non avrei nulla in contrario la proposta perché ero il primo ad averla fatta pure proposta fatta la collega Kevin Cumia di poterlo analizzare già qui però mi sono accorto che ci sono tanti piccoli errori da correggere e quindi forse è meglio e questo lo dico anche così per maniera molto serena forse è meglio riportare tutto in commissione mi prefiggo ci prefiggiamo come forza politica di far avere già prima in segreteria depositare già prima gli emendamenti di modo che la commissione già si ritrovi già acquisiti di pareri in modo da accelerare i tempi questo è quello che ci prefiggiamo io già li ho pronti domani 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 giornate scadenza per me l'uno di cinque li deposito in segreteria quindi così si possono acquisire tutti i pareri e la commissione potrà lavorare già con i pareri acquisiti questo è quello che mi prefiggo di fare in modo da penso trovare l'accordo di tutti i colleghi grazie grazie a lei consigliere Tampè quindi mettiamo ai voti il rinvio in commissione mettiamo i voti consigliere Prifigno eh sì però lo stavo per fare sì infatti quindi intanto prima dobbiamo sostituirli quindi prima chiamiamo l'appello l'appello questo è il punto sì assoluto sentimo allora Tampè Perri Comia Salvatore Ferrigno Fabrizio Zuccalà Strazzanti Patti Strazzante Flammà Di Dio Baglio Alessi Comia Kevin Vetriolo Ferrigno Giuseppe Barresi ok quindi assenti Comia Salvatore Zuccalà Strazzante Di Dio Alessi Batù e Ferrigno Giuseppe Sì Quindi Quindi e proponiamo la sostituzione della consigliera Michela Strazzante con la consigliera Flammà Danila Aspetta anche Cumia Salvatore Sì e non lo devo fare ah ok è il consigliere Cumia Salvatore con Cumia Kevin chi è favorevole rimanga seduto chi è contrario si alzi la proposta passa all'unanimità dei presenti perfetto adesso mettiamo i voti la proposta di rinvio in commissione chi è favorevole rimanga seduto chi è contrario si alzi la proposta passa viene approvata all'unanimità se qualcuno vuole intervenire sull'esito della votazione prego consigliera Flammà volevo ringraziare il collega Tampe che ha colto il senso della mia proposta grazie la ringrazio e quando saranno pronti gli emendamenti mi adopererò per convocare la commissione se non ci sono altri interventi passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno le interrogazioni dottoressa sono le 22 16 quindi la prima interrogazione è sottoscritta da me chiedo che mi venga condivido di trattarla in quanto comunque sono l'unica rappresentante del mio gruppo perfetto posso leggere oggetto interrogazione sul mancato scerbamento delle strade cittadine io ho sottoscritto consigliere comunale per riclorinda nell'espletamento del proprio mandato premesso che tutte le vie di Barra Franca sono in fase ad erbacce le quali oltre a palesare il degrado in cui versa la nostra cittadina creano problemi di natura igienico sanitaria e di sicurezza stradale considerato che molti cittadini lamentano da mesi il mancato scerbamento e la pulizia delle strade cittadine ritenuto opportuno provvedere immediatamente tramite interventi mirati e urgenti alla pulizia di tutte le vie di Barra Franca per quanto posto sopra è esposto lo scrivente consigliere comunale Clorinda Perri interroga il sindaco e l'amministrazione per sapere perché la cittadina di Barra Franca si trova in questo stato di abbandono se a intenzione di questa amministrazione ripulire tutte le strade nella città ed in che tempi si richiede risposta scritta orale e in due termini stabiliti del regolamento e che la presenza venga inserita all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile io voglio sottolineare una cosa che come di consueto mi sa che ultimamente con le interrogazioni non arrivano le risposte io questa interrogazione l'ho protocollata un bel po' di mesi fa e non ho avuto risposta ma quello che è ancora più scandaloso è che alla mia interrogazione che è già stata trattata addirittura in quella seduta mi fu detto che mi sarebbe arrivata risposta sul depuratore del zona Gelsi contrato al Gelsi quindi zona sud non ho mai ricevuto risposta io sinceramente adesso sono stanca e voglio dire e che è importante che continuando così segnalerò tutto al prefetto che è comunque l'ordine competente perché è impossibile che un consigliere comunale ha la facoltà di interrogare l'amministrazione e non ne riceva risposte grazie sì collega la sto sostituendo in questo momento in attenza che poi arrivi la risposta a questa interrogazione non so a chi tocca anzi all'assessore al ramo un secondo con la assessore un secondo soltanto allora in questo momento nel ruolo che sto rivestendo momentaneamente protempore dico che è fondamentale nel rispetto di ciò che è previsto nei nostri regolamenti nel rispetto dei ruoli che quando il consigliere comunale chiede una risposta scritta questa risposta venga data nei termini previsti dal regolamento personalmente il termine è breve anche 15 giorni personalmente nella mia qualità di consigliere comunale ma quando nelle volte in cui sostituisco la presidenza mi farò promotore anche di un atto di censura nei confronti dell'amministrazione perché più e più volte sta capitando che non si risponde in maniera adeguata quindi nelle forme richieste alle interrogazioni ok è chiamato a rispondere mi parla l'assessore all'ambiente mia facoltà grazie presidente buonasera a tutti allora io innanzitutto nel rispondere a questa interrogazione della consigliera Perri volevo sottolineare appunto come non sia d'accordo nella assolutamente giusta l'interrogazione non fa una piega solo non ero d'accordo volevo sottolineare le mie perplessità circa quanto si usa la locuzione che barra franca si trova in uno stato di abbandono non possiamo assolutamente cioè se affermiamo questo significa che noi dimentichiamo da dove veniamo dimentichiamo da dove questa amministrazione ha preso il paese cioè non possiamo dimenticare cioè che sotto se no 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 c'entra e come c'entra e come non possiamo dimenticare che sotto incontrato sotto serra i rifiuti facevano da sparti traffico nelle zone antistanti l'area cimiteriale era impensabile già non impossibile transitare comunque al di là di questo nessuno vuole fare polemiche non posso permettere neanche che si possa dire stato di abbandono perché lo dobbiamo per onestà intellettuale anche a chi e tutti i nostri operatori che giornalmente si adoperano sulle nostre strade per cercare di dare il massimo poi per carità le criticità ci sono e nessuno qui le vuole negare attenzione nessuno qui le vuole negare e infatti poi passo ad analizzare quelli che secondo me possono anche essere i motivi per cui si è arrivati a queste criticità perché questo è il mancato ascerbamente è una criticità è inutile che nessuno vuole negarla secondo il mio modesto parere uno dei motivi va anche ricercato nella stessa raccolta differenziata noi abbiamo iniziato questa tipologia di raccolta perché perché è una raccolta molto minuziosa e difficile ed è chiaro che gli operatori che si sono trovati ad affrontare questa raccolta purtroppo hanno impiegano del tempo necessario per cui viene tralasciato anche un servizio importante però secondario perché sappiamo bene che il servizio base è il porta a porta e molte volte per cercare di espletare in maniera non impeccabile anche se a volte non si riesce neanche a quello dobbiamo essere sinceri però per cercare di espletare questo servizio a volte si tralascia altri servizi secondari quale può essere quello appunto dello spaziamento dell'osserbamento nonostante spesso e volentieri facciamo dei richiami in tal senso l'altra motivazione secondo il mio modesto parere è anche che la raccolta differenziata inizia proprio in corrispondenza con l'inizio della stagione estiva la stagione estiva come è noto chiaramente il nostro paese per fortuna un po' si sovraffolla quindi le quantità di rifiuti che si producono sono inevitabilmente maggiori e anche qui si è chiamati ad uno sforzo chi ha dovuto pulire e rivulire quindi le strade con il porta a porta e chiaramente con il risultato che si è tralasciato qualcosa comunque chiudo e ti rispondo alla tua seconda domanda giustissima se è nostra intenzione ed è chiaro consigliera Perri che è nostra intenzione nessuna di queste intanto vuole essere una scusa nessuna di queste vuole essere una scusa quindi ci assumiamo le nostre responsabilità e la nostra intenzione l'intenzione di questa amministrazione appunto al più presto ridare dignità a questo paese significa ridare pulizia se ce l'abbiamo fatta con l'avvio di queste differenziate che ad oggi ha un 55% registriamo quindi contiamo che in tempi brevi riusciremo pure a fare questo grazie grazie l'assessore la collega interrogante grazie assessore per la sua risposta allora si evince un problema a Barra Franca abbiamo il abbiamo via leggera la cannata distrutta ed è colpa dei cordoni che c'erano nel 2014 qui sotto abbiamo i depuratori che non funzionano ed è colpa del cordone di immondizia sotto che del 2014 e del 2015 c'era sotto serra tutto è colpa di quel cordone allora oggi abbiamo parlato dei piani rifiuti i piani rifiuti sono passati come abbiamo visto noi paghiamo lo scerbamento a peso d'oro c'è un lavoro questo lavoro lo paghiamo a peso d'oro e non abbiamo il tempo di farlo adesso io dico cioè obiettivamente Barra Franca ci viviamo tutti tutti ci passeggiamo tutti ci giriamo con la macchina e tutti vediamo le condizioni non si può fare lo scerbamento soltanto ed esclusivamente quando ci sono le progettazioni nelle vie dei santi non si può non si può accettare una cosa del genere cioè io almeno mi aspetto che lo scerbamento venga prodotto venga fatto davanti alle scuole perché è vero che c'è l'ordinanza che davanti le case le persone comunque devono essere i proprietari delle case stesse a farlo però almeno davanti le scuole dove ci sono i bambini in cui comunque l'erba porta sporcizia porta animali porta topi mette allergie c'è e si difficoltano a camminare i bambini in viso delle strade perché è vero che ci sono difficoltà ci sono le zecche quindi per me è inaccettabile almeno davanti le scuole visto che questo servizio noi lo paghiamo a peso d'oro e lo voglio ripetere perché lo paghiamo a peso d'oro perché dobbiamo essere sinceri qua stiamo oggi si sta manifestando grazie a questa interrogazione una lacuna importante del nostro cioè che comunque che si viene fatta perché non viene fatto questo servizio a Barra Franca si viene noi oggi vediamo concretamente che realmente lo scerbamento non viene fatto eppure l'abbiamo pagato nei piani rifiuti quindi come si può essere così soddisfatti non lo sono e non lo sarò mai fino a quando i termini sono questi grazie grazie alla collega interrogante le cedo di nuovo il posto e io ritorno al mio allora prossima interrogazione oggetto interrogazione NETR sulla raccolta differenziata rifiuti con richiesta e risposta scritta orale alla prima seduta utile del consiglio comunale ex articolo 44 del regolamento delle adunanze del funzionamento del consiglio comunale primo firmatario Alessandro Tampè prego consigliere Tampè sì presidente la ringrazio ci sono in questa interrogazione ci sono degli elementi che denotano il fatto che l'interrogazione è stata presentata il 19 giugno del 2018 non è stata mai trattata ma non ha mai ricevuto neanche una risposta è chiaro che risente risente della datazione quasi col carbonio 14 no? perché da 19 giugno ad oggi siamo quasi al periodo finale del semestre di espruttamento del servizio da parte della ditta aggiudicataria della Cogesi SRL e quindi sono passati già sì sì no no per carità no ma questo qui è come dire un monito io sono un consigliere comunale noi abbiamo un regolamento sul question time che dovremmo attivare finalmente in modo da snellire velocizzare e rendere più efficace anche le interrogazioni che sono uno degli strumenti di controllo dei consiglieri comunali sull'amministrazione benissimo inizio perché ho fatto la premessa perché ci sono alcuni elementi che è chiaro che adesso vengono superati in interrogazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti con richiesta di risposta scritta e orale i sottoscritti Tambi Alessandro Bagliocati a Giasmin Barresi nella loro qualità di consiglieri comunali e portavoce del Movimento 5 Stelle viste l'ordinanza sindacale numero 6 del 10 maggio 2018 con la quale si affida in via interinale provvisoria per la durata di sei mesi per un periodo compreso tra il 17 maggio 2018 e il 16 novembre 2018 quindi scadenza fra 15 giorni circa il servizio di raccolta RSU alla ditta Cogesi SRL di San Giuseppe Iato l'ordinanza numero 8 del 23 maggio 2018 rubricata avvio e disciplina delle modalità di esploitamento del servizio raccolta differenziata dai rifiuti solidi urbani assimilati con la quale in pratica si avvia nel territorio del nostro comune dopo gli innumerevoli provvedimenti adottati nel corso del 2016 e del 2017 da questo consiglio comunale finalmente la differenziata vista l'ordinanza numero 9 del 5 giugno 2018 rubricata modifica ed integrazione dell'ordinanza sindacale numero 8 del 23 maggio 2018 con la quale si sopprime la postazione mobile sul ruota in attività giornaliere in via dello stadio per istituire un numero sufficiente di postazioni mobili su mezzo idoneo cassoni e o combattatori combattatori presso l'area dell'ex amantes vista le prescrizioni dell'ordinanza 3 RIF dell'8 marzo 2018 del Presidente della Regione Sicilia presso atto delle previsioni dell'ordinanza sindacale numero 8 del 23 maggio 2018 in merito alle modalità di conferimento dei rifiuti differenziati e non per le utenze non domestiche e commerciali che sulla base di quando disposta dall'ordinanza sindacale numero 9 del giugno 2018 si ordina la Cogesi SRL affidataria del servizio RSU di sopprimere le postazioni mobili su ruota in attività giornaliera in via dello stadio così come previsto nel punto 1 comma 5 dell'ordinanza sindacale numero 8 del 23 maggio 2018 e di istituire invece un numero sufficiente di postazioni mobili su mezzo idoneo cassoni e o combattatori presso l'area dell'ex amantes in modo da consentire alle utenze il conferimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati secondo il rispetto tassativo del calendario settimanale già disposto con l'ordinanza numero 8 che tali postazioni presso l'ex amantes dovrebbero essere disponibili quotidianamente da lunedì a sabato dalle ore 7 alle ore 11 e 30 a iniziare dal 6 giugno 2018 che le utenze che potranno accedere a tali postazioni sono le utenze non domestiche che sono probabilmente quelle che stanno vivendo con maggiore disagio la strana distribuzione del calendario dalla differenziata in questa fase e le utenze domestiche non servite dal sistema di raccolta porta a porta lamentando il contenuto di tutte le fac che non ripeto perché già l'abbiamo elencato sciorinato e letto nella precedente interrogazione fermo restante il proposito cardine che si è posto nel Movimento 5 Stelle di Barafranca che è quello di promuovere ogni azione atto e o iniziativa necessaria a far partire visto che già è partita incentivare e migliorare le performance e i dati di raccolta differenziata oltre quelli del compostaggio della frazione umida mai avvenuto per tutte le tipologie di utenze domestiche non al fine di conferire il minore quantitativo possibile di rifiuti in discarica per prevenire le emergenze rifiuti e avviarci verso comportamenti sempre più virtuosi verso standard da paesi civili e ove possibile verso sicuri risparmi per i nostri concittadini interrogano il sindaco e tutta l'amministrazione comunale su alcuni dei tanti dubbi insorti dall'applicazione delle disposizioni delle ordinanze sindacali sopra richiamate ritengono idoneo e adeguato il sistema di raccolta dei rifiuti differenziato e non studiato e messo in atto per le utenze non domestiche o commerciali non era meglio organizzare bene un servizio idoneo e adeguato e meno approssimativo per tali tipi di utenze che stanno avendo e vivendo gravissimi disagi non sarebbe stato necessario e opportuno o forse sarebbe stato il caso di dire obbligatorio organizzare meglio e sin dall'inizio nell'area dell'ex amandes secondo criteri più uniformi ai reali bisogni di conferimento delle varie frazioni di rifiuto prodotti dalle utenze non domestiche specie in questo periodo dell'anno che notoriamente è quello nella quale esse dovrebbero finalmente lavorare di più in modo da tradurre o azzerare i gravi e esasperanti disagi cui sta andando incontro tale tipologia di utenza se è consapevole del fatto che tali utenze specie nel settore della ristorazione e della preparazione della somministrazione di elementi bevande ove dovesse perdurare il grave disagio nella raccolta delle varie frazioni di rifiuto rischierebbero anche la chiusura per motivi sanitari si accontezza delle modalità con le quali avviene la raccolta dei rifiuti nell'area mercatale il sabato mattina essa rispetta i criteri della differenziazione del rifiuto o avviene ancora in stato emergenziale mischiando tutte le frazioni di rifiuto questo è il contenuto dell'interrogazione è chiaro che una parte delle risposte sono attivate man mano perché sono passati cinque mesi siamo quasi alla fine del sesto mese in cui la ditta la cogesi SRL si è giudicato alla gara d'appalto sta completando il sindaco oggi ci ha annunciato che probabilmente dal 17 novembre mattina avremo la nuova ditta però sono rimasti vivi e vividi non solo nella mente ma anche sulla pelle di tutti i cittadini le difficoltà iniziali poco fa uno dei colleghi parlava di monito tutto ciò che avviene deve fare da monito e quindi significa che tutti dobbiamo trarre tesoro dagli errori dalle cose che si fanno dalle cose che si sperimentano dall'esperienza fatta e soprattutto per questo deve servire per migliorare sempre e per arrivare a più alti risultati nel corpo dell'interrogazione io dico che il Movimento 5 Stelle non propone queste interrogazioni per il desiderio di minare alla base ciò che viene fatto ma semplicemente per dare un contributo al miglioramento dei servizi purtroppo arriva in ritardo la lettura di questa interrogazione e meno male perché se fosse arrivata nella stessa giornata in cui fu depositata la lettura in quest'aula io non sarei stato così sereno non sarei stato così calmo perché in quei giorni abbiamo vissuto anche qualcosa di brutto che ho ricordato nella precedente interrogazione e che ha visto accomunare me la vicepresidente più qualche altra collega che arrivò nelle scale del palazzo municipale e che ha visto destinatari i consiglieri comunali di opposizione noi questo siamo dei senatari di menzogne spudorate da parte del personale amministrativo che diceva cose non vere perché diceva e proferiva agli operatori commerciali presenti sul territorio che la colpa del fatto che loro stessero vivendo dei disagi non era perché il servizio non era organizzato bene non era perché la cogesi stava entrando in quei giorni nel servizio non era perché era difficile avviare il servizio era una fase start up quindi dovevano organizzarsi meglio eccetera eccetera non è perché non c'era stata un'informazione capillare non è perché l'area dell'examandes non era stata predisposta bene eccetera eccetera quindi qui ci sono tutte le elengazioni degli errori ma perché c'eravamo questi stupidi consiglieri comunali di opposizione che sbagliamo sempre che facciamo il nostro compito e quindi non dovremmo farlo il nostro compito di segnalare proporre e migliorare a quel punto insomma è chiaro che è nata fuori questa questa interrogazione è nata fuori l'altra interrogazione che non ha avuto risposta purtroppo forse perché era troppo lunga era di otto pagine ma io ne ho fatto ampio uso perché mi è servita anche per analizzare il piano il piano finanziario che ho bocciato grazie grazie a lei consigliere d'ambè prego consigliere assessore ragusa grazie presidente allora questa interrogazione risale a fine giugno mi pare il 19 giugno e ad onore del vero a ragione del consigliere in quel periodo aveva tutto il suo motivo di esistere è inutile negarlo e anche noi perché ovviamente uno stando in giro riscontravamo queste criticità circa quindi le modalità di raccolta per quanto riguarda le utenze commerciali quindi le utenze non domestiche e quindi queste titubanze che noi abbiamo nello specifico proprio ci chiedevamo se le utenze non domestiche se il loro calendario dovesse essere lo stesso rispetto a quello delle utenze domestiche chiaramente la risposta è stata no perché quindi noi abbiamo predisposto appunto un calendario ad hoc per le utenze commerciali oltre poi a fornirli dei contenitori che abbiamo visto e potete vedere davanti le attività commerciali quindi le abbiamo fornite di un calendario ad hoc e quindi la raccolta per quanto riguarda queste attività è avvenuta in maniera differente quindi prendendo carta e cartone il vetro in maniera più frequente rispetto alle utenze domestiche appunto perché le attività commerciali quindi in un periodo estivo poi soprattutto quelli che erano i ristoranti i bar che fanno molto più vetro carta rispetto alle utenze plastiche rispetto alle utenze domestiche è chiaro quindi diciamo che sostanzialmente anche perché quindi questa risposta è venuta dopo mesi il problema possiamo dire che si è risolto però non vogliamo essere così pensare di essere così bravi che il problema avrebbero risolto del tutto perché comunque delle criticità rimangono e anche qui speriamo che il servizio migliori perché comunque delle segnalazioni permangono oggi siete passati come mai c'era cartone cerchiamo di puntellare anche in questo però possiamo dire che questa problematica è stata risolta anche grazie quindi a questa interrogazione questo monito che ci ha messo davanti questo problema nell'affrontarlo la parte finale dove ci viene chiesto se abbiamo contezze delle modalità in cui viene la raccolta dei rifiuti nell'area mercatale lì mi voglio soffermare perché per quanto riguarda l'area mercatale ancora oggi riscontriamo dei problemi che per due tre settimane è migliorata molto la cosa perché perché l'area mercatale si rischiava di diventare una discarica sabato alle ore 13 e 30 sicuramente il consigliere Tambè abitando lì vicino circa le 13 e 30 alle 14 si creava un via vai di gente che andava puntualmente a lasciare il rifiuto non conforme alla giornata nelle traverse stava diventando veramente una cosa incredibile per fortuna siamo intervenuti in tempo grazie a una conferenza di servizi anche insieme ai vigili urbani e quindi con il loro controllo quindi anche la figura che fa da deterrente e siamo riusciti ad arginare la problematica c'è stata anche una task force stessa dei vigili urbani che ha multato molta gente molti cittadini che quindi facevano questo e quindi ad oggi possiamo dire che anche lì il problema si va risolvendo quindi si torna alla normalità e quindi contiamo che anche nell'area mercatale riusciamo quindi i nostri operatori riescano a differenziare per bene visto che prima per sgomberare l'aria inevitabilmente dovevano poi attuare fare una indifferenziata quindi in maniera generale tutto qui grazie consigliere e assessore Ragusa prego consigliere Tampè sì presidente grazie io ringrazio l'assessore Ragusa per le risposte mi tra marco del fatto che comunque le risposte non arrivano mai per iscritto questo lo ribadisco mi prefiggo comunque di fare depositare un atto di censura non solo a nome mio ma anche del movimento che rappresento è indubbio che con le interrogazioni i consiglieri comunali esplitiamo uno dei nostri compiti è chiaro che magari la risposta non attiva quella scritta ma probabilmente il fatto che una interrogazione viene depositata già comincia a far produrre degli effetti e riconosco nella risposta che ha dato l'assessore Ragusa gli elementi positivi nel senso che indubbiamente si è dato risposta a quei disagi iniziali e per fortuna gli esercizi commerciali soprattutto l'area della ristorazione da una fase estremamente drammatica iniziale hanno cominciato ad avere delle risposte e quindi le correzioni in atto ci sono state e quindi non abbiamo assestito a quei cumuli iniziali quelle difficoltà quelle grida a ragionveduta da parte degli operatori commerciali che veramente si ritrovavano in gravissimo disagio il fatto stesso che non ci fosse la domenica e mi auguro che la nuova ditta che arriverà possa fare il servizio di domenica è un grave documento per il settore della ristorazione perché lavorano di più il venerdì e il sabato e quindi hanno bisogno del servizio la domenica mattina cosa che faceva la generale montaggi che la Coggesi non fa questo è giusto che ce le diciamo queste cose l'area mercatale indubbiamente è diventato un'area difficile ma questo spesso avviene e io nel taggitto che mi faccio al mattino per andare dalla casa mia allo studio e soprattutto in l'area dove compro il giornale al mattino mi ritrovo come destinatario di tante lamentele spesso volentieri in questo tipo di problematica le lamentele sono quasi tutte uguali io non ho avuto il servizio durante questa settimana per alcuni giorni per alcune tipologie di rifiuto soprattutto in alcune aree del paese soprattutto per quanto riguarda la frazione umida che faccio qualcuno addirittura delle persone che sono state multate mi diceva io per due giorni non ho avuto il servizio per tre giorni non ho avuto il servizio sapevo che nell'area mercatale prendevano tutta la spazzatura indifferenziata e quindi ho portato lì la spazzatura e si è beccata la multa qualcuno si è beccata la multa qualcuno qualcuno appena usciva le buste dalla macchina poi appena posati è stato multato con 100 euro capisco che la forza della tenda ci sta tutta però bisogna probabilmente anche distinguere i casi perché se nella settimana ed è notoria a tutti che ci sono state delle settimane di disservizio legate a mancato pagamento degli emolumenti eccetera eccetera li sappiamo viviamo sul territorio e quindi conosciamo la realtà non siamo a Roma non siamo a Torino non siamo a Milano quindi siamo una realtà piccola e quindi probabilmente è chiaro è fondamentale che ci sia che ci fosse stato e che c'è stato l'intervento dei vigili urbani però io penso che un minimo di flessibilità in materia nei giorni in cui c'è stato un disagio forse era il caso di farlo anche perché io non voglio assolutamente criticare l'operato degli operatori ecologici a cui va tutto il mio grazie incondizionato però ci sono state delle aree del paese in cui la differenziata non c'è stata perché in alcune aree del paese hanno preso ogni giorno qualsiasi tipo di rifiuto anche questo sono i racconti fatte dai cittadini una maggiore attenzione probabilmente da questo punto di vista sarebbe importante fare però è chiaro che capisco che non può farlo l'amministrazione ci sono quelli deputati a farlo anche questo forse da qui a 20 giorni sarà un discorso superato perché ove e quando finalmente indirerà una nuova ditta molte di queste problematiche non saranno più oggetto di attenzione nostra ma sarà una ditta che farà tutti questi compiti e il nostro compito sarà quello di vigilare su tutto il servizio completo grazie per l'attenzione e grazie per le risposte all'assessore Ragusa grazie a lei consigliere Tambè passiamo alla prossima interrogazione interrogazione all'assessore Giovanni Patti in merito alle sue dichiarazioni nella seduta del Consiglio Comunale del 19-6-2018 prego assessore Patti secondo me questa interrogazione non rispetta il regolamento dell'articolo 44 perché io vengo interrogato su una mia dichiarazione cioè quando sono consigliere comunale non ho mai visto un'interrogazione del genere si interrova il sindaco l'assessore comunale per sapere conoscere su un progetto su un'attività svolta ma su una dichiarazione fatta in consiglio comunale non so cosa io debba relazionare o scrivere quindi chiedo alla segretaria al presidente se ho ragione o meno sì prego consigliere allora è chiaro che si parte da una dichiarazione sì 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 no no un secondo un secondo rispondendo all'assessore Patti no per spiegare allora scome il primo firmatario sono io io spiego il motivo dell'interrogazione poi è chiaro che poi il parere ci sta tutto è chiaro che si parte da una dichiarazione però si chiede con ragione di provvedimenti evidentemente fatti dall'assessore semplice solo questo per raggiungere un elemento alla valutazione fatta dalla segretaria che deve fare la segretaria di provvedimenti di provvedimenti di provvedimenti grazie a tutti Grazie. 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 Articolo 44 del regolamento. Interrogazioni. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda rivolta al Sindaco, all'Aggiunta o al Presidente per sapere se un fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta. Se si è stata presa o si intende a prendere alcune risoluzioni su oggetti determinanti o comunque per ottenere informazioni sull'attività dell'amministrazione comunale. Un consigliere che intende a rivolgere, vabbè, penso che il resto lo posso bypassare. Rivolta al Sindaco, io personalmente, è una mia interpretazione come giunta dall'amministrazione, quindi un componente dell'amministrazione, quindi un assessore. Non cita, se personalmente o non personalmente, ma su dei fatti accaduti, comunque delle interrogazioni sull'attività di amministrazione comunale. Il problema è che nel momento in cui ci sta tutto il fatto che venga interrogato sul campo sportivo o ci siano interrogazioni, però le dichiarazioni di dimissioni diventano un po' particolari come situazione. Però per me non è un... Se liete voi? Prego. Semplicemente mi rimetto all'interpretazione della Presidenza e come gruppo ci proponiamo di ripresentare l'interrogazione cambiando alcune cose. I motivi dell'interrogazione ci sono tutti e sono tutti in piedi. La ritiriamo e la ripresenteremo riformulando in maniera diversa. Altrimenti, se l'assessore parla, dice che si può trattare. Io penso che forse sarei sia la scelta migliore quella se voi come gruppo la riformulate in maniera diversa e la ripresentate. Grazie. No, 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 magari la ripresentano in maniera diversa così almeno ci togliamo un po' dalle difficoltà. Grazie. Due interrogazioni. Prego. Sono entrambe cose date di foto? Interrogazione Quater sui rifiuti. I sottoscritti. També Alessandro, Katia Baglio e Jasmine Barresi. Nella loro qualità, vista l'ordinanza numero 6, numero 8, numero 9, salto alcuni passaggi perché poi sarà letto in futuro. Visto il contenuto di tutte le interrogazioni già presentate in tema di raccolta differenziata che qui si ritiene integralmente dichiamato, il contenuto, in quanto nessuna risposta ad oggi è pervenuta. Preso atto, prendiamo atto semplicemente di quelle che poi in qualche modo saranno pervenute già, preso atto delle previsioni dell'ordinanza numero 8, numero 9, salto, tanto sarà letta in seguito. Rambendando il nuovo calendario per le utenze domestiche e non domestiche in vigore dal 20 agosto 2018, mancano ancora dei minuti, collega. E la locandina informativa relativa ai rifiuti ingombranti ai RAE, considerato che le condizioni dell'ex amantes, come si può evincere dalle foto allegate alla presente, sono indubbiamente molto lontane da quelle di un'area che possa essere definita come isola ecologica. Interro con il sindaco e l'amministrazione comunale su alcuni dei tanti dubbi insorti dall'applicazione delle disposizioni delle ordinanze sindacali, sopra le chiamate, e dallo svolgersi poi del servizio. Ritengono idoneo e adeguato il sistema di raccolta dei rifiuti differenziati e non studiato e messo in atto per le utenze domestiche e non domestiche o commerciali? Non sarebbe stato fondamentale attivare una vera e propria isola ecologica? Come si sta utilizzando l'area dell'ex amantes? Secondo quali criteri viene utilizzata come aria per conferire le varie frazioni di rifiuto prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche ai requisiti previsti per legge? Si accontezza dalla gran quantità di rifiuti che vengono abbandonati nelle aree immediatamente periferiche del nostro paese? Si accontezza delle tante disfunzioni del servizio di raccolta differenziata? Sa questa amministrazione che in certe aree del paese non si conosce la regolarità del servizio? La raccolta effettuata rispetta i criteri della differenziazione del rifiuto che ci si è prefissati? In certi giorni avviene anche ancora in stato emergenziale mischiando tutte le frazioni di rifiuto? Vorrà finalmente questa amministrazione far rispettare tutti gli obblighi posti da capitolato, doneri in capo alla ditta affidataria del servizio compreso l'obbligo di spazzamento e lavaggio, strade, marciapiede, piazze e disturbo delle stesse? Si accontezza del fatto che si sta procedendo a sanzionare indiscriminatamente tutti i cittadini colpendo anche quei nostri concittadini che non ricevono un regolare servizio e che si è sperati non sanno dove conferire le frazioni specie umide del rifiuto, vista l'importanza. C'è un corretto di foto a colori, sono tre copie, una per la presidenza, una per l'amministrazione e una poi per noi del movimento. Grazie. E c'è un'altra interrogazione che depositiamo oggi. Interrogazione sullo stato di abbandono della strada di contrada San Gesipuzzo, tratto Barra Franca, Torrente Tartara, con richiesta di risposta scritta e orale. I sottoscritti, També Alessandro, Baglio Katia e Giasmin Barresi, nella loro qualità di consigliere comunale e portavoce del Movimento 5 Stelle, viste le continue segnalazioni fatte dai nostri concittadini, viste le precarie condizioni nelle quali si trova questa strada di accesso e di uscita del centro abitato, visto che lo stato di totale abbandono e degrado della strada di contrada San Gesipuzzo, tratto Barra Franca, Torrente Tartara, spesso ridotta in ampi tratti a discarica, a cielo aperto. Preso atto che sono stati avviati i candieri di servizio, che dunque tale occasione poteva essere idonea e propizia per ovviare e porre rimedio alle segnalate condizioni di precarietà della strada di contrada San Gesipuzzo, tratto Barra Franca, Torrente Tartara. Considerato che tale strada costeggia il torrente nel quale confluisce anche l'acqua proveniente dal nostro depuratore di zona nord. Fermo protestando che uno dei compiti di chi amministra questa nostra comunità è quello di spendersi per migliorare le condizioni di vita garantendo sicurezza, percorribilità delle strade e accesso fra le zone di abitazione e le zone di lavoro dei nostri concittadini. Interrogano il signor sindaco e tutta l'amministrazione comunale in merito a quali siano i propositi e i progetti che l'amministrazione, se ve ne sono, ha su tale strada usata e percorsa da centinaia di nostri concittadini. Ritengono il sindaco e i nostri amministratori che le condizioni di tale strada siano idonei alla percorribilità? Non pensano che sia il caso di programmare degli interventi anche in comune col vicino comune di perapresia in modo da pensare finalmente ad una forma di adeguata percorribilità in tempi ragionevoli? Non sarebbe il caso di presidiare la stessa strada con delle videocamere in modo da evitare che essa si continui a trasformare in una discarica degli fiuti e materiali pericolosi a cielo aperto o, come è successo, diventi località di abbandono di automezzi rubati? Si allegano delle foto scattate nel recente passato che attestano lo stato di perfetto abbandono e di degrado di questa strada. Se considerata l'importanza della problematica trattata, si chiede altresì al Presidente di porlo all'attenzione del primo Consiglio Comunale utile. Grazie a lei, Consigliere Tampè. Ci sono altre interrogazioni da presentare? Qualcuno vuole presentare qualche altra cosa? Abbiamo evaso il punto delle interrogazioni e credo che abbiamo evaso tutti i punti del Consiglio Comunale. Quindi la seduta è sciolta. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.